L'iniziativa si chiama Ritratti in cerca di un nome. Abbiamo esposto una serie di ritratti, sia maschili, femminili, di bambini, tutti facendo parte del fondo fotografico del nostro fotografo stiliese Felicia Montagnini. Le persone hanno partecipato, devo dire, e hanno individuato parecchi nomi, anche viventi, ci sono anche delle persone viventi che si sono riconosciute.